Ciao ragazzi, oggi è venerdì, domani si giocherà a Savdoria Bologna e una partita come quasi tutti ormai quest'anno importantissima ma che secondo me ha un peso ulteriore. Domani bisogna per forza portare a casa tre punti, sono tre punti vitali purtroppo, dispiace dirlo però in questo momento del campionato, ogni punto perso è un passo in più verso la retrocessione. Intanto ragazzi vi invito ad andare in descrizione, ho lasciato qualche martedì sera, sono live su Twitch con il gruppo di SamTube, questo mi fa molto piacere quindi vi invito a tutti quanti ad andare in descrizione ma poi di martedì sera dalle 21 in poi a venirci a seguire perché ne abbiamo veramente di tutti i colori da dire, martedì questo scusate, parleremo di tutto, spero di parlare in positivo per la partita di domani, me lo auguro ma intanto andiamo a vedere domani Stankovic come vuole giocare, abbiamo visto subito che Stankovic vorrà continuare con questo 3-4-1-2, mi sembra anche ovvio perché i giocatori che ha glielo permettono in questo momento. In difesa sempre al centro Nuiting con Ailati, Murillo e Amione, in porta ormai inutile anche dirlo San Audero così ribattezzato da tutti noi tifosi perché ci salva sempre in un modo e nell'altro e ringraziamo di cuore per quello che è successo in questi giorni, chi segue la sample lo sa benissimo, la situazione societaria, problemi di soldi, i ragazzi che si sono relazionati lo stipendio di dicembre permettendo alla Sampdoria di non incorrere in due punti di penalizzazione che sarebbe come ucciderci. Detto questo a centro campo ripropone Quisans insieme a Wings che secondo me contro l'Inter hanno fatto una bellissima partita, li ho visti i compatti insieme si capiscono, giocano un buon calcio, Wings lo sapevamo, Quisans era entrato un po' così la volta scorsa ma era la sua prima e devo dire che contro l'Inter si è rifatto alla grande. Sulle fasce è Augello sulla sinistra e in teoria rivedremo Leris sulla destra. Adesso non voglio sempre andare a puntare lì perché Leris è un bravissimo ragazzo e ci mette veramente l'impegno spero, mi auguro che stando magari a casa un turno si sia riposato abbastanza da poter essere anche lucido e preciso durante la partita Zanolli non si era comportato male contro l'Inter a mio parere può fare di più certo però non è un ragazzo di esperienza è un ragazzo molto giovane che ancora deve farla questa esperienza quindi è giusto anche che qualche volta purtroppo sbagli i tre di attacco sarà Duricic sulla tre quarti e la coppia ormai collaudata è Lammers-Gambiadini Gambiadini strae in forma, l'ho visto bene contro l'Inter la doppietta lo ha detto nella partita scorsa scusate contro il Monza e adesso spero che domani contro il Bologna faccia veramente una bella partita perché abbiamo bisogno dei suoi gol, delle sue giocate, dei suoi tiri ho visto una Sampdoria contro l'Inter molto più motivata a tirare in porta spero che succeda la stessa cosa domani se dovesse accadere questo vedo una buona Samp spero una buona Samp detto questo ragazzi vi invito ad andare in descrizione l'ho già detto prima, lo ripeto per il martedì sera live su Twitch canale SampTube collaborazione con il canale Doriano tutti martedì sera mi troverete sulla piattaforma Viola e iscrivetevi a questo di canale che è il mio principale il Doriano, un like e forza Sampdoria